Durkan McBroom è una storica vocalist dei Pink Floyd, una delle più importanti band internazionali, ha fatto la storia della musica, torna in Abruzzo per un'importante tappa al porto turistico con i Painbox. Lei è contenta chiaramente di essere tornata qui e questa volta sarà diverso, chiaramente. Lei ama molto il cibo, molto, e dice che le persone qui sono fantastiche. Beh, se è come il resto dell'Italia sarà una cosa unica. Qual è la difficoltà di andare in giro per il mondo e cantare con queste cover, possiamo dire, dei Pink Floyd e sapere che si è una persona che è stata importante, molto importante per la band originale? Beh, è chiaro che insomma lei, quando si esibisce con le tribute, fa capire che comunque, avendo fatto parte del mito, lei insegna agli altri come ottimizzare al meglio le parti, le versioni, che è una cosa chiaramente importante, è diverso da chi le riproduce e chi invece ha fatto parte della storia, insomma. Beh, io personalmente ho ascoltato la sua voce quando avevo, la prima volta avevo 18 anni, adesso ne ho 40 e sono cresciuto con la sua voce, con la sua professionalità, con il suo modo di stare sul palco, quindi per me è un mito. Painbox con Durga McBroom, questa sera, 28 luglio, porto turistico, ore 21.30. Grazie a tutti!